Pinball 2016 ha un gameplay semplice quanto immediato. Adatto ai nostalgici e a chi ama i tempi di Fonzi. Altro non è che il classico gioco del flipper simile a quello che c'era in Windows XP. Per controllare le alette dovrete tappare lo schermo nel rispettivo lato destro e sinistro. Ahimè non c'è il controllo del tilt quindi non potete scuotere il tavolo. Il gioco vi da la possibilità di giocare su tavoli diversi e tiene conto dei vostri punteggi migliori in modo da potervi migliorare. E' totalmente gratuito e lo sviluppo è supportato da qualche pubblicita' poco invasiva. Enjoy! Grazie per la visione! Grazie! Grazie!